Cari amici dei peli dell'Etna, è uscito il mio nuovo scritto. Siccome ho vissuto moltissime censure delle mie opere d'arte nel mondo occidentale, il che mi ha lasciato allibito laddove dovrebbe invece promuoversi l'arte, e censure mosse avverso nudi, che nulla hanno di riferimento sessuale, nudi dei sederi, in particolare su TikTok i miei sederi vengono bannati e io vengo sospeso dalle pubblicazioni, mentre magari una bella donna con un bel sedere che si mostra e fa bene a mostrarsi, che equivale a un sedere scoperto disegnato con il perizoma, non viene bannata. Questo mi ha lasciato però dell'amaro, ma non solo TikTok, anche altri social network, ho fatto un breve resoconto del fatto che censurino le mie opere d'arte. Ciao patata! Saluta patata! Lei è patata? La gattina! Bene, vi lascio in descrizione il link al libro.